la ragazza bella ecco qua allora ma ripresenta ti presentati la chat fai tutte le tue presentazioni buongiorno a tutti sono marilla ho 21 anni vengo da napoli un'altra napoletana nella vita studio musica elettronica al conservatorio e nel tempo libero mi piace stremmare e fare cosplay ok tu sei una mid laner giusto no in realtà gioco principalmente di carri però vuole imparare a giocare mid ok quindi sei una di carri pentita che vuole convertirsi al ruolo più bello del gioco ottimo ci piace ragazzi solo solo gnoccone nella mia chat sempre ve l'ho detta è così funziona così i dai an sono il meglio allora qual è la tua esperienza da mid laner più o meno quante volte hai giocato in passato ho trovato alcuni campioni tipo ari lux però come dire non che io conosca bene proprio come giocare la lane al livello anche di macro robe da fare quindi diciamo che sono un po spesata ok quindi se diciamo quasi una novizia allora io direi di iniziare secondo che c'è un problema di ah ma sono stupido ma io ho messo uno stupido a sfac scusami avevo messo lo schermo e non te ok ok allora corli a propietà che ti aggiungo apri pot apri pot o apri coat ok dovrei averti aggiunto controllo io aspetta un attimo io sono nato due anni al conservatorio non mi hanno mai aperto che battutaccia però mi ha fatto ridere più grande è raga grande poi non c'è il claspetto va bene secondo secondiamo o secondiamo i voleri della chat va bene così the gaming games e the game sta sta grindando era di uno ieri adesso è un attimo sceso dspesa è accertato dove sta ecco di qua allora ha asperga beve ma serve vedere un attimo il client ok allora la ranchett l'hai fatta in questa qua perfetto è questo non è un problema anzi si è perso è meglio perché vediamo bene bene qual è la tua effettiva situazione allora andiamo un attimo a vedere le rune perché sono la prima cosa che ci interessa allora Electro, Taste of Blood iCollection, Ravenous Antamona e Scorcio queste qua le hai prese da qualche parte o le hai messe tu? Porofestor allora non è male l'Electro è buono contro i melee perché prochi quasi sempre prochi quasi sempre la combo subito tu ora vedi ieri contro Akali quindi ok benissimo normalmente si mette Airy su di lei che è buonissima anche contro i melee quindi Airy è la cosa standard Electro va bene puoi anche mettere cometa se sei contro roba molto range tipo Lux, Xerath queste cose che colpisci solamente se ti avvicini molto però normalmente queste nuove vanno benissimo Manaflow e Scorch si ci sta perché comunque questo è un setup da bullo cioè tu con questa roba qua dovresti abusare il melee che hai contro quindi picchiarlo molto spesso eccetera eccetera paradossalmente andava bene anche Nico a D contro Akali l'hai mai giocata? no è divertente praticamente maxi w doppia ti fai attack speed e sei una mitraglietta oddio è parecchio divertente però non è più in meta da un bel po' una volta era in meta va bene allora andiamo a guardare cos'è successo ovviamente non guarderemo i tuoi compagni di squadra anche se che lo sei tu? scusa non ti ho visto era stato una rankhead però scorsa sito non ho arrancato un pochino sono arrivata silver ma diciamo che non ranko molto ok quindi dovessero più o meno average silver bronze un attimo che si si devo rimpicciolire di nuovo ok oppla ok il mappa non serve via allora si fino a ora iris unico è abbastanza canon con corrupting tonico warp come si gioca a cindra praticamente contro i melee è abbastanza tedioso allora vediamo un po' volete invadere? no non è vero si volete invadere? o volete stare fermi lì? dove sei tu? ok sei qua fermati la live va a un po' di delay eh lo so un secondo devo metterti lo stream su discord aspetta ok ok oh me lo dimentico sempre uno ok sto vedendo ok ok a posto ok ok dove 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 è? ok allora qua chi stava comandando? cioè chi è che vi ha detto di far l'invade? ma non ti ricordi? no non mi ricordo ma in realtà non avete un non avete un team bruttissimo per invadere però loro c'hanno Yumi e Zreal cosa fa a staccare qui? allora tu hai iniziato di Doran e pozioni con l'electro ci sta però in caso volessi giocare molto più aggressive come ti ho spiegato prima con le rune di prima Airy e Corrupting Corrupting con tonico warp e biscotti è una combo abbastanza forte perché ogni volta che tu clicchi la pozione ti ridà immediatamente la metà della vita che prenderesti in tutta la durata della pozione più un'altra parte quindi è tipo una cura istantanea e le Corrupting bruciano si salta o funziona il microfono? cosa sta succedendo? ok tu hai sentito di culo e va bene guarda contro i melee vabbè ora avete invaso invadendo dovevi iniziare di E se volevate invadre comunque quando quando giochi contro i melee starti sempre di W in realtà Nico starta quasi sempre di W perché ti aiuta ti aiuta di più a farmare ma siccome lei devi abusarla perché comunque vedi? già una totacola hai tirato lei devi abusarla e ogni terzo colpo di W è una una stecca che si prende questa lane dovresti giocarla brava così giusto ad autoattacchi e sempre stare fuori lontano dal range della sua della sua Q quando ha energia e la Q di Akali se non sbaglio adesso di energia ha 120 mi pare non è più 100 come prima si si può usare anche per detornico però è brava sempre a range appena hai il 2 ok c'hai già il 2 qua devi piccare forte devi farla pentire lei non potrebbe giocare così vicino perché tu ogni volta che la prendi con con gli adattacchi fai bene qua se avessi avuto Airy già erano 50-60 danni in più conta questo ok giusto quello allora la wave qua è messa in una situazione perfetta per te ora ti spiego un pochino pochino la gestione delle wave si per farti gancare meglio e per non farti gancare anche se Nico è difficile che la ganchi perché ha la W però può succedere la wave deve essere messa sempre in questa posizione vedi ok tu sei qua nella tua tre quarti e lei è molto più avanzata questa cosa vuol dire che se Rek'Sai vuole venire a gankarti che molto probabilmente ora lo farà a meno che non è scemo Akali è costretta a stare qua lontana dalla sua torre ok che Akali ha mille dash e può scappare via però tu sei al sicuro dei gank nemici e lei è in una sezione di pericolo per il tuo jungler inoltre la puoi poccare quindi finché ti tieni la wave qua bilanciando il danno che fa ai minion e pushando tanto quanto pusha lei perché non vuoi averla sotto torre sei in una posizione perfetta questa è dove vuoi è dove vuoi la wave per fare questo lavoro invece se vuoi fare la bulla che è un po' più rischioso ma si può fare con un giusto con un giusto wording è il contrario cioè lei deve stare qua e tu devi stare qua con lei sotto torre che si prende tutti i tuoi schiaffi sono due impostazioni ok 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 sono due impostazioni valide a seconda di come ti piace giocare se ti piace giocare più arretrato più avanti però dicevo va benissimo qua ora lexai dovrebbe gankarti ma non lo farà non posso mi fare di sì non mi ricordo ok buona questa è peccato che hai usato la Q prima bello questo attacco vedi devi sempre pusharla cioè devi sempre attaccare i minion in modo tale che non ti vadano tutti sotto torre che non ti vadano tutti sotto torre finché hai buona questo un po' troppo vicino ma ok mi piace ce l'hai l'ignite ce l'hai lei una combo ignite muore vediamo se lo fai allora qua una cosa una cosa importante sei a 3 minuti e 33 vedi che la wave si è spostata in mezzo quindi non ce l'hai più sistemata anti gank adesso devi devi immediatamente andare a wardare prima potevi anche non farlo ma adesso ti serve una ward per forza per le ward in teoria già dai 2 minuti e 40 in poi conviene wardare se sei una situazione in cui sei gankabile prima non lo eri quindi ok adesso che sei gankabile vai qua o sopra dipende da dove pensi sia il jungle nemico da dove pensi ti gankerà e metti la ward qui in questo lato ok questo è la ward standard per le gialle se la metti qua e vedi tutto questo lato vedi se il jungle arriva da qua vedi tutto quanto la pink quando recollerai perché va presa una pink ogni recall importante la metti qua ok e così hai tutto il lato wardato e quando una volta che hai la ward messa in un punto tu giochi dallo stesso lato perché se il jungler ti arriva da qua lo vedi e puoi scappare se ti arriva dall'altro lato che non hai wardato puoi scappare perché hai il vantaggio della distanza ok se tu hai domande fammelo ovviamente io ora sto parlando a macchinetta però se tu hai qualunque domanda si ad esempio le ward dall'altro lato è speculare è speculare ok quindi ok ok se vuoi metterla da questo lato la metti qua se vuoi metterla dall'altro lato la metti qua poi dopo facciamo un discorso un po' più teorico delle ward per ora è solamente farinata veloce va bene va bene bellissima brava ignitalo perfetto perfetto è così che si gioca nico ottimo bullizzare bullizzare il nemico soprattutto se è emilì allora di meccaniche vediamo che ci sei comunque ora vediamo un po' vabbè dopo ci sono un po' di brutte azioni eh quello è il lato macro ecco allora qua è subito da dire una cosa allora la kill l'hai fatta avrei dovuto bruciare no 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 è giusto così la kill l'hai fatta e la wave è messa bene la wave è messa abbastanza bene perché è tutta sotto la torre nemica ora vista l'impostazione della tua andrai un poco più avanti se volendo potevi rimanere e fare un'altra wave ma avresti perso il tempo quindi è giusto recollare e tornano indietro anche se la wave tua ora andrà a posizionarsi qua perché tanto poi rimbalza ok ok cioè rimbalzi indietro ora è messa qua ma nel tempo che lei arriva in lane e che arrivi tu vedi adesso si è di nuovo sistemata visto che stanno andando avanti ora quando tu tornerai ci stai mettendo un sacco quando tu tornerai ti troverai più o meno la wave qua ed è perfetta per te quindi questo ricordatelo bene quando recolli prima pusha tutta la wave nemica ok se puoi poi oddio se hai due hp e non ce la fai a volte succede che non puoi vedi che lei ha uno due tre quattro cinque sei caster hai il doppio dei tuoi caster quindi la sua wave anche se lei non la tocca anche se lei sta ferma la sua wave pusherà verso la tua a prescindere e tu te li trovi tutti questi baby minion da farmare e lei no a me pare ho perso un po' di tempo in base perché non sapevo bene che build fare ok allora cosa hai preso il blasting wand non so quanti soldi avevi dopo la first blood fai vedere un attimo allora x giusto allora 1100 allora dopo il recollo il primo oggetto quello perfetto sarebbe scusami quello perfetto sarebbe il lost chapter ok quell'oggetto da 1300 gold che ti da ti da mana per livello ce l'hai presente giusto però mi pare non avevo abbastanza esatto ci avevi 1100 allora quando hai 1100 gold di solito o prendi immediatamente le scarpe con nico e forte prendere subito le scarpe perché comunque andrai a romare andrai anche a romare e la magic pen è forte la magic pen è forte a prescindere e soprattutto la velocità di movimento in più ti aiuta nei gank nemici ti aiuta con akali che non ti prenderà mai di q quindi mettere le scarpe immediatamente con 1100 era forte altrimenti un'altra cosa buona era prendere due tomi due libri due libri e una pink oppure un sigillo scuro un libro e le scarpe quello che hai preso tu è diciamo la cosa peggiore perché ti dà ti dà 40 di ap secchi ok e va bene 40 di ap secchi sono buoni però sei se non sbaglio rimasta no sei rimasta con hai usato tutti i gold perché hai preso le scarpe però non hai preso la pink e non ti non non la non la sfrutti questa a meno che non metti il luden se metti il luden ci sta però non so cosa farai tu di build cosa farai si il luden si si ah vabbè allora sei fatto il luden in realtà ci sta però erano più worth due tomi perché ti danno lo stesso lo stesso ap e poi ti ti buildi immediatamente con 465 gold quello l'oggetto il lost chapter capito si ok ok quindi tu andrai di luden che ci sta nico ha diverse build ok buono eh in effetti io non sapevo bene cosa buildare no ci sta hai la wave messa da dio guarda rexai adesso che giustamente ti farà gankare perché ah ci sono tanti minone in realtà non dovrebbe gankarti rexai ora tu daresti prima un attimo sfoltire questi minion brava una q fai un'altra q li tiri via tutti quanti più o meno ok perfetto e sei sempre la sezione di prima vedi tu vuoi sempre la wave qua ti saluto a feldrin ciao feldrin ah io non la sto guardando alla chat sto guardando brava fai bene giusto fai bene fai bene devi essere focussata qua ci stava anche una q prendendole entrambi va bene lo stesso vedi lei sta giocando nella peggiore posizione possibile perché giocare in mezzo alle wave contro nico è tipo come dire ehi pigiami con la e ogni volta che ogni volta che puoi dovresti sempre provare a tirare una e e poi una q perché tipo la la one shot ora che c'hai 66 di ap se non sbaglio con una eq che procchi elettro li fai almeno 400-500 danni gli attacchi gli attacchi puoi sempre tirarli e sono forti ovviamente ora te lo dico come se tu nel passato mi potessi ascoltare ottimo allora qua c'hai 6 non so cosa ha fatto allora in teoria quando il jungle ce l'hai vicino e vabbè lei è Akali lei è Akali ed è difficile da prendere però se fosse stato un campione un campione più meno mobile tu in questa situazione fai una cosa usi W per non far capire esattamente le tue intenzioni dopo W clicchi immediatamente R poi fai flash una volta che la R sta per sta per finire cioè quando proprio salta quando salta in aria e poi torna torna giù e la kill è fatta a prescindere a meno che lei non flash questa sarebbe la cosa migliore ora vediamo cosa succede ok ottimo potevo usare la R qua te la facevi anche in solo si infatti no ma se vedrai ci sono delle ulti bruttissime perché non sapevo bene come utilizzarle tipo ho fatto cose proprio brutte prevediamo tanto c'hai anche Lilia qua vicino ah ma loro lo sapevano bene le intenzioni di Rek'Sai ah giusto Rek'Sai probabilmente voleva gankare ma aspettava che tu iniziassi forse anche se in teoria doveva iniziare lei però la vedevano quindi una cosa che magari non so se sai quando tu ti trasformi in un nemico scusa in un alleato la R non è visibile immediatamente per loro praticamente la R diventa visibile per loro solamente quando salti in aria quindi quando tu ti trasformi esatto è fortissimo quando tu ti trasformi in un nemico e utilizzi la R loro lo vedono solamente quando è già troppo tardi quindi quando vuoi usare la R stai gankando cioè quando tu vai a gankare le altre lane sempre trasformati o nel jungler o in dipende cosa vedono loro se loro non vedono il jungler ti trasformi nel jungler e gli fai credere che sei il jungler e ganchi ma va bene anche in solo lane solamente per avere quel il bonus di di che nascondi la R insomma questo poi non l'ho fatto ah beh se non lo sapevi non c'è problema questa poi quando vedremo i team fight te la spiegherò meglio si platifa streaming non lo so raga posso si allora l'hai ti ha voltato quando mi pare quando è andata un attimo in panico molto molto in panico allora ti spiego come avresti dovuto giocarla siccome a Kali è rotta è rotta rotta Kali quindi ci puoi fare poco questa roba una volta che lei ti ingaggia puoi fare due cose o hai il sangue freddo di riuscire a prenderla di E immediatamente quando lei ti salta oltre la testa ma devi avere dei riflessi abbastanza forti oppure la la confondi con la W vai sotto torre e se lei ti viene addosso allora utilizzi la R utilizzare la R subito non ti sarebbe servito semplicemente perché lei con la E te la doggiava o con la R te la doggiava quindi non utilizzare la R hai fatto bene ma quanto sono andato indietro spero ok comunque devi sempre rispettare la distanza allora in questo caso adesso se avessi avuto se volevi giocare i riflessi di riflessi molto bene dovevi fare R istantanea E di qua e Q e la blocca via terra però ci sta che tu ha cioè lei ha usato immediatamente la W vedi Akali così Akali così vedi lei è fulminia con le cose che fa poi è anche flashato qua potevi andare subito indietro però penso che volessi pensavi di fare la kill giusto si vabbè ci sta ripeto Akali Akali è fatta così ok buone le scarpe vedi allora per esempio lei è andata back ed è merda perché guarda come ti lascia la wave e lei infatti anche vedi anche se hai così poca vita è worth pushare questi 3-4 minion perché ora tu torni cioè alla massimo massimo perdi un minion o due il cannone è così questi qua te li farmi tutti anzi hai perso niente hai hai preso di esperienza di esperienza hai preso tutto che è la cosa più importante ricordi meglio prendere l'esperienza che meglio meglio soldi adesso non avete non avete più il flash non avete più le ultimate fai vedere un attimo la stazione delle altre lane hai mai pensato a romare in realtà non sapevo bene quando allora ti spiego quando tu vuoi romare è come è lo stesso principio del recall prima del roaming devi sempre pusharla con Nico puoi perché fai e in mezzo a tutta la minion wave Q sui caster e li hai puliti tutti ok tu fai questo e poi puoi romare quando lo fai è quando vedi che più o meno la situazione bot è così cioè quando o sei a metà o sei in realtà puoi romare sempre perché anche se loro cioè lui e Lux lei e Lux fossero stati qua tu puoi tranquillamente divare con Nico anzi sei molto forte a divare con Nico quindi puoi romare quando ti pare cioè sia quando i nemici sono avanzati e allora lì è molto facile sia quando loro stanno pushando l'importante quando divi è che voi avete minion e loro no quindi tutti i minion boss devono tipo essere qua cerchiati loro devono essere qua sotto e allora lì potete daivare ok si preferisce non daivare campioni che hanno molti crowd control tipo Nautilus, Jin difficilini da daivare a cosa si può fare? Yumi e Zreal sono abbastanza facili non hanno cc eh si c'hanno quelle Yumi eh beh l'ha volto di Yumi si c'hanno solo quella però tu Rek'Sai non ha ancora fatto un singolo gank eh e Rek'Sai dovrebbe fare solo quello all'inizio tu pensa bella questa è ma che danni che gli fai la distruggi lei è molto disrespettosa ti tira troppo troppo dritto eh il carretto eh il carretto è la maledizione di ogni mid laner vai tranquillo penso che io ne perdo più di quelli che farmo bella molto bella ottimo perfetto perfetto niente da dire guarda se dovessi proprio dire qualcosa se proprio dovessi mettere il puntino nella I lago nel pagliaio una volta tirata la E dovevi immediatamente castare R proprio però quella te la devi sentire dalla serie è una cosa più preditta cioè gli tiri la E e tu sai già che colpisce allora già prepari la R però va benissimo anche come hai fatto tu tanto non poteva scappare quindi va benissimo così allora adesso la wave si deve pushare questa forse no puoi anche non farlo no invece si devi pusharla perché è rimasta bloccata ottimo e lei si perderà tutta sta roba allora qua hai due possibilità o picchi e prendi placche sei a nove minuti quindi ora hai abbastanza danno per prenderti una placca se non addirittura una e mezza però vediamo la situazione in mappa allora tu non sai dov'è il jungler nemico che si sta facendo l'herald il tuo stare callando hai fatto benissimo ad andartene no mi pare forse eh però mi ricordo ci sono un paio di volte che sono indecisa vado avanti e indietro allora quella è la cosa peggiore che si può fare sul league ma l'indecisione è la cosa peggiore piuttosto fai un errore ma fallo subito perché andare avanti indietro avanti indietro perdi solamente tempo a fare letteralmente niente qua comunque potevi sia andare bot volendo a no no in realtà bot non potevi andare perché non c'hai la R potevi fare le placche o andare via siccome il tuo jungler se ne sta andando era un po' rischiosetto stare qua però la ward ce l'hai quindi le placche sono comunque le placche e poi qua Nico fa molto male ma che roba ok una placca e vai via ottimo fare la seconda era rischioso hai fatto bene a non farlo ti saluta anche Jasel Nalarar ciao Jasel Nanalar ok perfetto e la pink addirittura due anche io a volte prendo due pink per sbaglio oddio non è uno sbaglio poi le pink vanno scambiate quando ti sposti durante gli obiettivi allora storexai è un mostro te lo sto gioco dicendo così storexai non capisce un cazzo perché non non puoi mai nella vita ora non so se ti interessa il ruolo del jungler ma guarda i piedi dire che sai non so se ti interessa il ruolo del jungler ma non non puoi mai fare un obiettivo se non hai priorità sulle lane lui non ha priorità né sulla botta né sulla mid perché giustamente tu sei qua quando arrivi devi pushare la wave quindi questo qua è un fesso infatti secondo me adesso ci muore e se ci muore è giusto così tipo tu qua lui ti pinga perché è un cretino ok sappi questo lui ti pinga perché è un deficiente e non sa giocare tu fai benissimo a pusharla subito perché hai visto Akali andarsene va a battere l'alien bar ciao yan ora potresti anche fare un atto di carità e andare ad aiutarlo nonostante non se lo meriti sappi questo devi essere egoista se tu vedi il nemico che è l'aleato che fa l'errore te ne futti e lo lasci e lo lasci morire ah ok l'importante è che tu fai le tue cose bene hai pushato la wave ottimo ora puoi andare all'obiettivo solo dopo aver pushato la wave però grazie pit pit dei 13 mesi ok lui se ne va vedi adesso adesso potrebbe tranquillamente fare il drago botlin ha preso prio loro sono costretti di qua ora fare il drago è buono e indovina un po' non farà il drago mi pare non abbiamo preso nessun drago guardando su tizio tranquilla che sono sono più che più che d'accordo che non abbia mai fatto niente me ne sono accorto e di questi sono questi sono i motivi per cui si perdono i game in jungle che non sa un fancazzo eh chiedo nel tuo il tuo twitch vai a mettere il lì ah no non posso non puoi mettere giusto aspetta faccio io aspetta c'è la live eh no ma se non sei in modo non puoi non puoi mettere i miei 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 eccola qua poi c'è anche il tuo instagram sulle cose immagino cioè nelle informazioni ecco qua amici andate a follower la bestia grazie è di nulla questo questo è il pacchetto è compreso nel pacchetto guardalo Iorik come tira dritto allora Kali è a farsi il drago è normale che loro l'abbiano fatto cioè ripeto il Torexai è un mostro quindi ci sta non potevi farci nulla allora come stavi andando qua ma potevi mettere la pink era buona era buona metterla pink qua va bene la gank l'hai l'hai doggiata bene con la W non stai non stai romando ma ripeto non è indispensabile oddio ti hanno messo l'herald buona questa Q non penso di te i verano guarda qua qua esatto qua se prendi una E ma in realtà potevi andare anche adesso c'hai il flash potevi fare R flash e prendimi entrambe però alla fine non le ho non le ho non le ho uccise vabbè un flash ma in realtà l'hai giocata bene c'è c'è il nemico ha flashato quindi è giusto così va bene così tu forse potevi evitare il tuo di flash fa vedere un attimo sì tu potevi evitare il tuo però alla fine il flash di Lili l'hai preso perché hai flashato quindi ci sta abbastanza lucky che non l'hai uccisa bella questa W per parerai però siccome avevi l'herald ed eri da sola hai fatto il meglio che potevi in quel caso era sicuramente forte fare guarda in quel caso era molto forte fare la E non su Akali ma su Lili e la one shot semplicemente con EQ e magari un Ignite e poi andavi DR su Akali se volevi giocarla proprio perfetta perfetta però l'hai giocata comunque bene la W qua bellissima per parare la E non ti avrebbe ucciso però ti avrebbe fatto comunque parecchio danno ah ah poi ci ha pensato Jinx apposta hai preso l'assist il karma qua ti ha ti ha favorito pure le ciabatte mi hanno tirato ottimo recall oh sei la prima che fa i recall giusti tutti giusti sei la prima che fa tutti i recall giusti wow per ora non hai ancora fatto un recall sbagliato ok eh l'XD lo so che è Jinx ma il karma l'ha punita ah 94 CS 13 minuti buono cioè buono discreto perché se sei bravo vinci se sei forte sali sei più o meno sui 7 CS mezzo al minuto che vabbè abbastanza average comunque per il in cui stai allora la R ce l'hai di nuovo no qua c'è la pink nemica ok buona da tua anche se qua è un po' rischioso metterla tua perché probabilmente lei te la toglierà in realtà poi fai tarla eh qui ero un po' indecisa poi sei abbastanza lei ha le mercuri ti rompe coglioni quelle mercuri però sei abbastanza forte da adesso ok bella vdoppia lol hai pensato fossi quella multidiorn si come tira come avete fatto a perdere sto game da qua è il jungle vero jungle difference bella Q bella vdoppia allora esatto lei Akali ha la velocità di movimento di Gesù Cristo siccome la tua R è carica in un secondo e mezzo mi pare giustamente è al tempo di ammazzare è un po' triste come potevi giocarla meglio allora vediamo un po' ok questa è la la EQ allora potevi giocarla meglio solamente in un modo una volta che tu hai visto la sua E e l'hai vista arrivare dovevi immediatamente ah non potevi non ce l'avevi la R eh no allora niente no aspetta no è buggato ma che cazzo aspetta no deve essere buggato perché da qua vedo che non ce l'hai però l'hai usata wait un secondo no ce l'hai hai buggato sta merda comunque dicevo una volta che hai visto che arrivava immediatamente R solamente così riuscivi a vincere però dovevi avere dei riflessi che onestamente non penso avrei avuto nemmeno io eh vedi lei è veramente troppo veloce e un'altra cosa che magari potevi fare che non ti sei sentito troppo confidente era andarli addosso anziché scappare probabilmente se gli andavi addosso vedi se gli andavi addosso subito potevi prenderla ma sai che non so nemmeno se l'ammazzavi aveva il flash no onestamente credo che in queste case non avresti mai potuto fare niente aveva anche il flash lei razzo di jinx va a battere peccato grazie a battere il curano ai 50 mesi è un peccato perché nonostante la le le poche probabilità che avevi te la sei comunque giocata bene era veramente difficile quella cosa che ti ho detto veramente tanto difficile ancora una volta la wave l'ho lasciata in merda vabbè ci sta meglio per noi ma cosa fa adesso il game sembrava ancora si no è ancora aperto ovviamente siete più o meno tutti even c'è un po' di differenza bottele ma non troppa il problema è questo è questo il problema è questo che secondo me vi affosserà ce ne sono ne sono sicurissimo da quando l'ho visto fare quella roba al drago e ho detto buono questo qua è è rip ma cosa sta combinando ok si è rubato il coso ma questo è l'unica cosa che ha fatto di buono guarda qua che non vedi Akali giusto il push e qua puoi romare botte qua romare botte ottimo ma qua mi pare vado to così non mi sbaglio forse per l'herald forse perché vuole fare l'herald questo qua romare botte era buono nonostante loro abbiano 5000 word quindi oddio forse non era così buono però nonostante cioè tu non lo sai che ci sono le word quindi madonna ma quante ne hanno ok no vedi la differenza tra tutti porca troia hanno tutto tutto il più cioè se tu cammini così ti vede questa 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 ok hai fatto bene non romare perché ora noi lo vediamo però il roaming era buono perché loro stanno sotto torre e e lo sono qua però madonna ok c'è il grande fratello qua di qua vado top appena che c'era anche l'herald buono no spesso è questa è questa è questa qua perfetto ottimo hai fatto bene hai fatto bene in realtà hai fatto bene andare top sia per prendere la kill che per prendere le ah ok lo fate l'herald no se non faceva l'herald sì sì a un certo punto mi stavo anche io un po' preoccupando qua puoi andare in lane tanto lui lui non ha non ha troppo bisogno non c'è nessuno che può contestarglilo quello è Yorick non sapevo se andare no non ha senso non c'è non c'è neanche l'obiettivo quello è un fight a cazzo di cane qua scusa io sono qui solo per lei troppo bella hai le ammiratrici anche grazie non solo gli ammiratori le ammiratrici ma tra poco c'è il drago vero? quanto manca? ah no c'è già il drago ah ma non potevi far nulla no non hai mai prio perché ma qua è uno scambio qua è uno scambio perché ha preso l'herald giustamente i nemici hanno visto tipo sta top ci sta a prendere speriamo nel razzo di jinx finale di arcane quasi eh quasi è andato vicino è andato molto vicino ciao eh per ora comunque siete a parte i draghi siete abbastanza even e ora salto c'è la mappa che io preferisco quella con i portalini è che non ne ho usato nemmeno uno non sei abituata magari a trovare una cosa ancora nuova ci sta sono molto forti non ho cioè ho giocato veramente pochissimo quindi qua troppo vicino ti sei preso a un trade molto forte l'hai destituito però devi sempre mantenere la devi sempre mantenere la distanza da Kali ma a prescindere da tutti quanti tu in teoria devi sempre rimanere a a range di auto attacco mai andare troppo vicino ok o al limite range delle tue spell non ti sei ancora mai trasformata vero? no e infatti non sapevo bene quando la trasformazione del Nico in lane è abbastanza useless a parte per quella cosa della R che ti ho detto cioè magari magari puoi farlo per far cascare qualche nemico magari che ne so il tuo nemico il tuo alleato è poca vita ti trasformi in lui e potresti forse ebeitarlo a volte funziona non sempre ma a volte funziona allora qua Kali no mi sono trasformata solo una volta se non mi sbaglio ok come prima uguale buono ottimo perfetto potete tirare la R un pelo prima ma lei è un pesce e ha fatto benissimo a fare sta cosa si però tu devi sbagliare un po' sennò io cosa sono qua a fare? eh io pensavo fosse comunque andato male il game quindi il game è stato perso ma tu hai giocato una phase molto buona e per ora non vedo errori meccanici e panic generale quindi ok i team fight li dobbiamo vedere tanto penso che adesso ci saranno no? 35 minuti che fanno botlane che scuro ok qua si pusha tutto pusha tutto ok cannone rip pazienza qua andare avanti no no anche se lei sembra AFK ah si qua è AFK si brava va bene giusto giusto così il nemico è AFK e tu lo abusi è giusto è giusto così eh non c'è non c'è pietà né in guerra né in amore e qua questa è una guerra brava giù la torre guarda quanto cazzo veloci il nemico attirà giù le torri va che roba allora la T2 allora cosa si fa una volta che tu prendi la prima torre quando prendi la torre e vinci la lane perché ormai tu la lane l'hai vinta puoi puoi fare questa cosa e andare a prendere la seconda ma per farlo devi ok il jungle non c'è il mid lane non c'è ottimo è giusto così nessuno ti può ti può rompere i coglioni facciamo finta di non aver visto questa cosa va benissimo picchiare la torre qua non troppo perché non puoi però metà vita la torre te la sei fatta ottimo è un bug grafico questo ragazzi non vi preoccupate non è qui la pink in realtà è qua è solo che la mappa si vede che è più in base c'è il dislivello ci sta infatti era un po' confusa va bene attenzione a non gridare non fare kirenis qua non fare le kirenate qua potevi pushare anche questa ottima stai attenta però sta a cari avvelenata molto avvelenata quella ti vuole ultare tantissimo non so quanti soldi hai secondo me ne hai abbastanza adesso hai preso due torri ah no quasi due torri 1400 gol vabbè qua ti chiudi zonia la build perfetta zonia sempre secondo item ok quasi sempre ma sempre perché nico ne ha troppo bisogno siccome sei sempre in mezzo al fight grazie alla r come terzo oggetto ci sono varie cose a me come terzo oggetto sugli api piace sempre il rabadon ma perché a me piace sfondare di danni terzo oggetto come terzo oggetto va benissimo il rabadon ombro fiamma un'altra cosa forte perché al momento è un item che dà troppe statistiche e costa relativamente poco quindi è troppo forte quell'item si mette quasi su tutti altrimenti anche un morello un morello è ottimo perché sei contro yumi che sei cura un botto e a quanto pare il tuo support mi sa che non vuole mettere riduzione cure quindi dovrebbe dovrebbe farlo lei non dovresti farlo tu lei dovrebbe mettere il putre fire quindi non dovresti essere tu ma siccome lei è sciocchina se tu metti il morello adesso in team fight non farai curare nessuno e quindi è molto forte l'horizon focus è abbastanza debole come item ragazzi molto meglio lo shadow flame mamma mia esplosa è qua un po' brutta questo forse l'ho sprecata no comunque hanno flashato dovevi usarla un po' prima ma qua è colpa di jinx che ti ha fatta prendere non tu qua è colpa di jinx un altro flash qua hai veramente poca vita quel dragon emo non è contestabile a meno che rexai non prende un bel no cap ai 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 eh si hai avuto un po' eh stato bravo Ezreal eh stato bravo Ezreal ma in effetti non era contestabile allora in questi casi quando quando pensi che l'obiettivo non sia prendibile non sia contestabile anche se i tuoi amici ci vanno tu non ci andare ok ora non so se pensavi magari di di fare qualcosa ma anche se senza R è difficile vincere avessi avuto la R e il flash ti ti camuffavi d'alleato e forse ce la potevi fare con un buon flash e se loro non flashavano altrimenti no bisogna qua e iniziate a perdere loro hanno anche tre draghi non che siano draghi importanti perché sono il cloud però sono pur sempre draghi no ragazzi il il ludene va benissimo su Akali e si vabbè su Nico se vuoi far tanto danno puoi farti anche la corona puoi farti anche level everfrost puoi farti un sacco di cose Nico è parecchia abbastanza poliglotta ma il ludene va benissimo considerando che loro sono full squishy tranne horn il luden fa un botto di danno a tutti quanti protobelt non si fa la protobelt sonico allora qua stai prendendo il side va bene perché comunque orna te lo puoi tenere quando vai in side lane non so se se sei abituato ad andare in side lane o no è rimasto fermo 5 ore quel tizio quando vai in side lane non devi mai andare troppo oltre se non vedi nemici e comunque in teoria dovresti avere il tp cioè non dovresti essere tu ad andare in side qua dovrebbe essere yorick tu dovresti essere con loro e yorick dovrebbe andare a matchare horn perché yorick è fatto per split push e lui ha il tp se per malaugurata sorte tutti loro ora muoiono gli nemici fanno il baron e tu non puoi fare nulla perché sei giù quindi non è male splitare ma dovresti farlo fare horn e tu dovresti andare a giocare mid per top non so io speravo di fare veloce qui e poi ragione horn a horn push pure lui e poi ha un 5000 hp ci sta esatto non è morto questo triale gigante questi non si fermano qua l'ha intata yorick comunque che non solo non ha splittato ma si è fatto pure uccidere allora quanti soldini hai bene un po' 700 non so cosa ti stai buildando però alla fine ho deciso di fare la banshee la banshee non so se era proprio giustissima la banshee è unito è molto situazionale diciamo che la fai quando i nemici sono pesantemente a p cosa che comunque non è sbagliatissima i danni a p ce li hanno però non è indispensabilissima potevi farti altri gettiti a danno qua attenza perché madonna che sberle che fare sai prendi il cazzo no quasi si ah però ho fatto uno per uno dai il fatto è che voi avete un team che si scala ma non troppo rexai se non prende vantaggi in irli fa cacare diventa poi un un manichino che non serve a niente sto york madonna santa mi fa male a vederlo che cazzo sta a fa' sto york ma pure questo con due ah ma sei tu ok no hai fatto bene hai fatto bene vedi stai imbeitando giusto eh immaginavo se fosse qualcuno lì nascosto c'era orne nei paraggi prima allora adesso adesso che iniziano le aram in teoria bisogna sempre giocare per obiettivi voi siete in svantaggio quindi la cosa migliore che voi potete fare quando siete così tanto in svantaggio è grupparvi tutti assieme tranne gli ori chi ori deve sempre splittare non lo dovete vedere gli ori che è uno splitter ok infatti sta sbagliando qualunque cosa voi vi gruppate tutti assieme in un cespuglio e tentate di prendere lo shutdown di Ezreal e di Lilia ok potete farlo tranquillamente con la Q di Lux potete farlo tranquillamente con le tue abilità e vabbè Rek'Sai ha fatto apposta per fare sta roba quindi questo è il modo giusto per giocare vostro al momento grupparvi in qualche cespuglio vicino a un obiettivo dove loro passeranno per forza comunque si mi dicono dalla regia che 34 su Yorick è un non so come andare alle poste il lunedì mattina parto questa cosa come è messa Krakenslayer Runan non posso sì Yorick non sta giocando Yorick non sta non sta non ha la minima idea di che sta facendo Yorick però non dobbiamo concentrarci su di lui quindi sti cazzi non so se potevo fare di più per vincerla da sola oddio qua potevi non morirci qua potevi anche flashare probabilmente non hai ben presenti i gigadanni di Ezreal Ezreal tra tre item tre item e la è il mitico potenziato da Orn Ezreal è gigante non non c'è devi proprio starci lontanissimo però anche se tu facevi miracoli guardando i tuoi teammates no non avreste perso comunque ah vediamo qualche teamfight tipo qua se fate teamfight ti fate teamfight mi sa che sei morto da Kali che sta facendo la bronzotrappola ma forse mi uccide io no ti uccide da Kali no 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 allora qua potevi fare R e zonia non so se lo sai ma la R funziona anche se tu sei zoniata lo sapevi? si però è stato tutto troppo veloce eh lo so ero tipo a volte a volte si panica quando succedono queste cose come ci sta vabbè t'hanno vendicato dai chiamiamolo effetto farfalla due per due quindi no non ci sono non ci sono oh signor cosa è successo qua cosa è successo qua ho visto triple kill di Akali ulti a caso di Lux si ma Lux ah buono buono ottimo brutto l'exhaust summoner di merda però vedi ottimo mille gold su Jinx qua è un'ottima win condition tu hai giocata bene perfetto sei the god adesso sei l'invp del game non sto scherzando ecco giustamente ora Lux fa la Lux e lei fa R e Q e ammazza tutti bella zonia come avete fatto a perdere da qua poi mamma mia Yumi allora tu non potevi giocarla meglio no forse potevi giocarla meglio farvi vedere vediamo se tu potevi giocarla meglio su sta Akali allora Lux è stupida è colpa sua se questa cosa è capitata lei poteva tranquillamente invece di far sta roba che è criminale o mettere la world qua o tirare una Q oppure non sta ferma Dio Bono insta esplosa tu hai provato a fare la E l'hai pure presa eh no ma non potevi far niente non avevi nulla no no l'avevi giocata comunque anche bene no non potevi fare altro qua te l'hai intata Lux bella così fanno il Baron qua ti esce che lo sta giocando eh immagino sia bronzo ragazzi era silver scorsa season però siccome non hai questa cosa è la prima delle placement dove ti ha messo ah allora Iron boh porca troia Yumi che danno eh qua mi decideva Yumi ecco non lo ricordavo eh beh il game è finito a vedere se potevi fare qualcosa in più qui non credo ma qua mi pare uso zogno con la vostra allora non avete Jinx loro non hanno stanno facendo qua vabbè qua è da combattere o morire quindi ci sta Yorick mamma mia che mostro ok eh qua Kali l'ha giocata bene perché è andata immediatamente su di te bella è probabilmente potevi fare subito R e magari provare a prendere entrambi però bella la tua ultizonia però la zona ce l'hanno pure i nemici e poi Yumi Yumi ti tira un razzo atomico mamma mia ecco vedi se lui avesse fatto questa cosa sin dall'inizio probabilmente il game sarebbe finito sì siccome i game non si vincono con i se e poi vabbè qua immagino che è rip qua è andato tutto in malora no vabbè loro avevano il drago maggiore quindi ma quella era una co di Yumi eh ma Yumi si è fatta il Luden faceva abbastanza male si è tolto 1000 HP con una co ma che è no ma c'era c'era anche l'Idy Lilia porco 2 e cazzo c'è sta Yumi aaa c'era la madonna cos'è ha più i tendi te mica Luden Horizon Focus quasi il void sta e c'era 400 dp sì sì c'era anche l'Idy Lilia ho capito l'Idy Lilia non è che fa 3 miliardi vabbè allora peccato per il game perché tu l'hai giocato veramente bene i tuoi compagni erano dei mostri dei mostriciattoli purtroppo mi sa che dovrei o giocare con qualcuno in questi casi cioè capita comunque che trovi gente del genere certo fare due queue è sicuramente sempre la cosa migliore ti aiuta almeno ad avere un maialino in meno allora signorina albicocca adesso ti fa ridere che ti chiama albicocca no è carino adesso andiamo a vedere un attimino un pizzico di teoria anche se in realtà ti ho detto quasi tutto quanto in game perché abbiamo visto parecchie cose tu hai qualche domanda oddio non lo so non credo no parla tu forse è meglio allora ragazzi aiutatemi in chat perché io secondo me io è tutto quanto in game abbiamo imparato la gestione delle web abbiamo imparato le word le word ah le word abbiamo parlato comunque ti dico tutte le le possibili come fare il tp al bar no quello non lo spieghiamo ti dico tutte le possibili combinazioni di word che andrebbero messe allora ipotizziamo che ah poi ho fatto bene a prendere come si chiama la lente dell'oracolo si no ci sta in teoria sui mage i long range mid si mette il 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 robo blu perché vabbè ti aiuta ad avere un po' più di vision quando sei magari che so ci stanno facendo il bar non lo sapete una una cosa blu ci va ci sta però non è non è mai male mettere non è mai male mettere la cosa la lente dell'oracolo comunque per quanto riguarda le word come ho detto prima più o meno dai due minuti e 35 in poi inizia a sentire puzza di merda perché il jungle di ganka quindi la la word giallina quella normale la mettiamo in questo punto e in questo punto speculare ok che qua ti fa vedere tutta questa parte di mappa più o meno ora è un po' più piccola non sono giotto purtroppo la pink la si mette qua e qua quando come ti ho spiegato prima quando si va a mettere la word in un lato poi si va a giocare di conseguenza nel lato in cui hai messo la word quindi se tu se tu hai wordato qua andrai a giocare in questa area ok non in mezzo perché ci sono i minion non si gioca quasi mai in mezzo i minion perché l'hai visto anche tu soprattutto se sei contro roba con range lungo tipo xerath o lux o ste cose che prendono hanno abilità away loro puntano ai cast il mio cane ha avuto gli spasmi ho visto tremare il divano ha detto che cazzo succede dicevo cosa stai dicendo abita away ok esatto prendono la wave e prendono anche te quindi in teoria va giocato quasi sempre su un side e perché soprattutto perché ti aiuta a vedere dove arriva il nemico se il jungle ti ganka da qui tu lo vedi se ti ganka da qua non lo vedi ma una volta che si scopre tu sei qui e te ne puoi tranquillamente andare via questo è il warding quello in fase neutrale se invece tu sei proprio stai giocando proprio qua e il nemico è qua sotto che prende il pene la pink volendo puoi metterla qua però è sempre buona qui ok è sempre buona qui la ward gialla invece la puoi mettere qua o addirittura qua perché ti fa è una ward molto avanzata chi ti fa vedere ti fa questa è per ammazzare il jungle o per ammazzare il jungle o per avere informazioni immediatamente su di lui è una ward molto molto aggressiva specularmente ovvero ovviamente dal cioè se tu giochi da qua la metti qua se tu giochi da qua la metti qua questa è la ward aggressivissima invece quella difensiva che può capitare se tu sei schiacciata sotto torre e ti d'aivano la gialla la metti qua ok se pensi che ti vogliono d'aivare e la pink è qua però è difficile che ti d'aivano comunque è molto difficile quindi se invece vuoi guardare questo side devi far così da qua metti la ward qui non è bellissima la ward in questo cespuglio perché non ti fa vedere molto ma quando sei schiacciato sotto torre vuoi avere un po' di visione non c'è altro da fare perché se ti azzardi a fare così muori molto probabilmente allora la gestione delle wave te l'ho spiegata l'hai giocata anche bene quando ti ricordi quando te l'hai tenuta qua il recall li facevi giusti roaming non ne hai fatti ma non è gravissimo romare per un mid lane è abbastanza fondamentale perché in solo Q ti fa vincere però tu ricordi che quando rommi devi sempre avere la wave crashata qua se hai visione della giungla nemica è ancora meglio ma non sempre puoi averla e o i nemici o i nemici devono essere qua o devono addirittura essere qua e allora è un roaming facile puoi fare puoi fare due percorsi per romare o fai così o fai così o così o così io di solito scelgo sempre questo percorso perché vabbè io gioco assassini quindi più dietro arrivo e meglio è sì hai domandine? magari su qualunque cosa? no vabbè in realtà di Nico mi hai spiegato praticamente tutto sì Nico non è un campione molto meccanicamente complicato quindi non c'è granché da dire sì eh non lo so quello che ti pare anche non so Nico eh ad esempio io non ho mai giocato campioni melee tanto meno assassin quindi diciamo gli unici campioni che ti ripeto ho giocato mid sono mage comunque range perché comunque giocando a D-Carry sono più facili quindi lì ci sarebbe magari un giorno proverò ad imparare però non è onestamente non è indispensabile avere per forza un melee mid è buono la season scorsa è stata il meta degli assassini quindi magari se li giocavi potevi salire anche un po' più facile però adesso il meta si sta di nuovo incentrando sui maghi quindi non è un problema più che altro giocare molti campioni è forte perché poi sai quello che fanno magari c'è qualche campione che tu non hai idea di cosa faccia te lo trovi contro non sai giocarci ecco giocare tanti campioni è forte per quel motivo perché sai cosa più o meno di base cosa fanno e sai come cosa aspettarti da loro però ci sono anche assassin ranged tipo c'è le blank c'è più vabbè a cali no perché è mi ma i maghi vanno benissimo e ad esempio se voglio giocare i mid devo tra le mie scelte ci deve essere per forza un assassin posso semplicemente giocare tu puoi giocare tranquillamente anche solo rihanna per sempre i mage da controllo servono sempre in ogni singolo game l'unico guarda l'unica possibilità in cui il mage è un po' una merda è quando quattro dei tuoi alleati sono tutti a p però quando è che succede succede molto raramente in quel caso un po' gioca una di carry mid l'usian l'usian è un buon un buon mid laner sì io ho giocato anche se il rivolto anche se è un po' un troll io una volta ho visto una se vir non era un mio ed era un po' non lo so sono rimasta un po' così è forte se vir mid push c'è la wave se ti se vuoi stunnare non ce la fai perché alla e comunque si è molto più facile che tutti i tuoi compagni siano a d piuttosto che a p molto più facile scommetto questo coci lo sto facendo gratis ovvio lei mi ripaga con la sua bellezza e con l'intrattenimento che portiamo a voi bestiace ma io penso divertire tutto quanto onestamente ripeto se tu hai altre domande fammele pure altrimenti possiamo pensando qualcosa sempre sulla midline però ma in realtà le cose più importanti te le ho dette gli obiettivi gli obiettivi ne abbiamo parlato dell'inferenza ne abbiamo parlato del macro in generale ne abbiamo parlato aspetta in realtà una cosa che non ti ho detto è quando split pushare e quando no in realtà non lo fai con nico lo fai con altri con altri in realtà i mage da controllo difficilmente split push a meno che non è un rise o anche una Cassiopeia può farlo però se vuoi split pushare è sempre bene avere il tp se tu pensi che sarà un game a split altrimenti lo fai ma non vai oltre non vai oltre la metà la metà campo perché se non hai modo di scappare sei sempre carne da macello ma in teoria non è compito tu lo splittare ci saranno ci saranno delle situazioni in cui magari la botta l'ha vinto e vuole scambiarsi con te allora lì ok non so che mai è capitato ma soprattutto una volta che tu hai distrutto la torre mid e hai vinto la lane non devi mai stare statica a prendere la seconda quando tu distruggi la torre mid la cosa migliore o ti muovi col jungler e vai assieme a lui a gancare vai assieme a lui a uccidere il jungle nemico metti i ward in giro l'importante è che ti muovi sempre torni poi a pushare la tua la tua wave se vedi che il nemico te la sta continuando a pushare allora la torni ma poi ti muovi subito perché ok non c'è cosa migliore del terrore che i nemici provano nel sapere dove tu dove tu non sei nel non sapere dove sei perché non hai idea dove sia devi costantemente spammare SS poi se se non lo fai e i tipi il tipo di gank gank e tu alleati loro ti flammano insomma è un è un burdare niente male mi sa che finiamo qua perché non so cos'altro non so più cos'altro dirti ah nemmeno io perfetto allora spammiamo di nuovo il tuo il tuo twitch andate a seguirla anche anche instagram amici sono tanti bei cosplay e ne saranno di nuovo esatto c'è da farne di nuovi bisogna bisogna farne di nuovi più più efficiente in questa cosa c'è qualcosa tra poco da te no il comico no vero il comico non è ad aprile cioè massimo una fiera un po' più vicina sarà il romix però sempre verso aprile quei mesi lì oddio un po' vicino napoli roma cos'è 300 km no 300 400 km quanti sono in totale dovrebbe essere 2-3 ore massimo di treno il treno regionale o tipo italo che è più veloce no regionale madonna sarà tre ore del regionale e spararsi un colpo in testa eh vabbè almeno prima classe io non ce la farei io quando quando viaggiavo facevano Milano Milano Roma spendevo 80 euro ma no il regionale penso che sia una tortura cinese in seconda classe eh oddio no io sono andata solamente col Pullman a Romix ed era anche abbastanza scomodo però mamma mia il Pullman no no ragazzi non ha OnlyFans no non ce l'ha OnlyFans tra poco ce l'avrò io però mi raccomando iscrivetevi va bene Mari dai grazie di aver partecipato grazie a te Ian mi raccomando allenati che poi vengo a vedere i suoi progressi dai da adesso in poi gioco principalmente i mid vediamo un po' perfetto dai caro ci sentiamo alla prossima grazie mille per questo coaching e grazie a te va bene ciao a tutti ragazzi ciao bella ciao 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 grazie ancora ciao ciao ciao